due tre ok ok ecco la nostra ricetta di san valentino fatta con pomodoro e mozzarella e basilico e compresa la insalata che ora mi mangio un pochino mi mangio solamente un grappolo eh a posto ecco voi vi lasciamo la ricetta per la nostra festa di san valentino cioè cucineremo una grande ricetta con pomodoro e mozzarella basilico e insalata ok prendiamo prima i pomodori e li tagliamo a fette ti faccio vedere così facciamo una caprese praticamente aspetta tutte così mamma ok e continuiamo aspetta fermo che li metto qua aspetta ok ne facciamo quattro noi ora mettiamo sto mangiando scusate il pomodoro il pomodoro il salo vedete e lo facete bastare per tutto quanto ok poi tagliamo la mozzarella a fette ok ragazzi guardate così piccole ora faglielo vedere che prendiamo ora prendiamo un stampino di cuore e lo stampiamo qui sopra così vai guardate quanto è bello eh troviamo ovviamente quanto dopo me lo mangio tutto io quello che avanza oppure questo quello che avanza e lo mettiamo qua vedete quanto è bello ora vai è pronto per per san valentino no vai vai battuta per san valentino mamma, credo siamo il più piccolo che verrà perché ovviamente mamma fa così che carino amore no ecco qua ovviamente mi mangio subito eh certo poi una figliolina di basilico ma no così sì certo piccola poi vabbè guarda che non c'è mia mamma mi mangio tutto però non ti chiedeglielo io ci sto, ci sto, te vedo da dove sei venuta? da dietro te se vi è piaciuta la ricetta iscrivetevi al canale e cliccate la campanella qui sotto vi diamo uno due tre a quelli che stanno vedendo li farò una videochiamata addirittura sì, è vero? sì, è vero? ciao iscrivetevi al nostro canale ah, giusto, giusto ciao prego grazie a tutti